Di quanti occhi avresti bisogno per abbracciarla con un solo sguardo? Di quante vite dovresti disporre per conoscere veramente questa città infinita, immensa, sconfinata? Quanti secoli riusciresti a individuare? Quante epoche potresti riconoscere in questo luogo così complesso, così stratificato, depositario di una storia lunga 3.000 anni? Residenza di imperatori e di papi, capitale del mondo pagano e della cristianità, culla dell'antichità e della modernità. Molteplici città che convivono, si sovrappongono, si succedono, si fondono. A quali grandi artisti sapresti dare un nome, fra tutti quelli che sono venuti qui a lasciare un'impronta del loro genio, nelle rovine archeologiche, nelle chiese, nei monumenti, nelle piazze? Non lasciarti scoraggiare dall'inesauribile vastità della sua bellezza, della sua cultura, della sua storia. Non importa se trascorrerai qui una giornata soltanto o la vita intera, Sarai, in ogni caso, un custode dei valori universali di questa città eterna, un tempo capitale del mondo, oggi, dono per l'umanità. Roma Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO Patrimonio dell'Italia Eredità per il mondo